Non mi smentisco mai, dopo questa credo di essere diventato il re dei mani bucate di inizio 2024. Adesso vi spiego il perché. Ma no, no, non mi sta male sta cosa. Per chi mi segue sa che in garage ho due moto. A proposito, se non mi seguite, mi raccomando, continuate a non seguirmi. La Cappona, la mitica Cappona, Santa Cappona, col quale sono riuscito ad arrivare in Mongolia, adesso a circa 75.000 km e non so perché hanno iniziato a non funzionare l'evento. Ogni tanto partivano, ogni tanto no, forse non so, dovevo aspettare l'allineamento dei pianeti. Oltretutto, nell'ultimo viaggio in Tunisia ho rotto il cuscinetto della ruota anteriore. Siccome i cerchi erano XL, li ho dovuti spedire da Stefano, Bartubles e Appavia. Quindi, Cappona, KO. La seconda moto, il GS 1250 Adventure 40esimo, è in vendita. E quindi, visto che è in vendita, non lo vorrei distruggere nelle mie uscite in fuoristrada. Poi, onestamente, mi sono anche reso conto che non è la moto che fa per me, in questo momento della mia vita, motociclistica. Ecco, mettiamola così. Quindi, sono rimasto fedele a me stesso e ho scelto una moto che mi potesse accompagnare nelle mie avventure in giro per il mondo, negli eventi di adventuring e, perché no, poterci fare qualche rally. Ma ho deciso di continuare autonomamente, lungo la mia strada, proprio perché volevo riassaporare quell'ebbrezza, quella libertà che mi mancava. Avendo l'opportunità, ovviamente, di provare nuove realtà o, perché no, nuove moto. E anche se Alice non lo può confermare, sono un romanticone. E credo anche un po' nel destino. E il destino ha voluto che la moto che desideravo la mettesse in vendita Davide, un mio amico di Torino. Vedete, tutto questo è colpa di questo personaggio qui, di Davide, no? E va bene che sono mani bucate, però almeno volevo risparmiare qualcosina sul biglietto aereo Catania-Torino. E per questo mi è venuto in soccorso NordVPN, grazie a quello potete risparmiare sulle prenotazioni degli hotel, dei voli e anche del noleggio auto, facendovi già localizzare virtualmente in un altro stato. Che figata, vero? Ma vi dico anche di più. Se avete viaggiato in certi paesi, vi sarete resi conto che alcuni servizi streaming o i social network, tipo Instagram, Facebook, YouTube, sono molto limitati o proprio non funzionano. Per questo più di una volta ho utilizzato NordVPN per cambiare il mio dirizio IP, in modo tale da poter rimanere connesso con voi bastardoni e poter mandare anche il messaggio alla buonanotte a mamma, grazie. Un altro vantaggio di NordVPN è quello di mantenere protetta la vostra connessione, non solo quando siete a casa, ma anche quando siete in giro e vi collegate a una rete Wi-Fi. Allora, col codice che vi lascio qui in descrizione avrete l'opportunità di provarlo per 30 giorni, nel caso in cui non doveste utilizzarlo, non vi piace, sarete rimborsati. Avrete anche quattro mesi extra e la possibilità di far provare per tre mesi lo stesso piano servizio. Quindi, cosa aspettate? Io ve la butto lì e poi dite che non vi faccio risparmiare, eh? Corno tazzi! Ma adesso, ciancio alle bande e bando alle ciance, è il momento di presentarvi il nuovo unicorno. Grazie a tutti! Siete pronti? Abracatabra, sticchio di tua sorella! Ma perché ho gli occhiali in testa io, boh? Raga, io non so che parole utilizzare per descrivere questa moto. Allora, ringraziamo Fabrizio dell'Arc di Moncalieri per il passaggio di proprietà dell'890 nuova. Certo, certo. Allora, cosa è successo? Tu hai visto la pratica del libretto? La pratica del libretto e ho visto che l'impiestatario era un certo Marretta Federico. E ho detto, ma Marretta Federico? Ma quel Marretta Federico? Ce n'è uno, il Marrettone! Il Marrettone! Ma sì, ma lo conosco. Vabbè, e poi mi dirai com'è questo video. Vabbè. Ciao Fabri, grazie. Allora, come potete vedere è una KTM 890 Adventure R, ma DR ormai ha ben poco. Adesso capisco perché Alice è gelosa. Io non so quanti soldi ci abbia speso Davide, ma secondo me tanti. Torretta Rebel X, sospensioni Explore Pro da 2,70, quindi ha cambiato sia la forcella che il mono. Vi ricordo che l'890R l'escursione è 2,40, ha cambiato i dischi, ha cambiato i cerchi, il paracoppa, ha messo l'ammortizzatore di sterzo, ha cambiato le leve, le manopole, la sella, lo scarico, ha tolto il catalizzatore, ha messo, se non sbaglio, i collettori Arro, ha messo il filtro, qual è? Quello? Rottweiler, non ha più palli di idee. L'unica cosa che vi posso dire, ragazzi, uno, fottutamente bella e due, che c'è da stare attenti e che vi permette di andare forte anche se fate cagare in fuoristrada. Rottweiler, non ha più palli di idee. 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 ha messo le pedane quelle power parts ktm ha cambiato la leva del freno ha messo il one clutch non so come si chiama c'è un pazzo un pazzo ed ero con compare di un'ora d'osta l'ha persino provata e praticamente aveva il sorriso che gli usciva dal casco non so si sta facendo forse il giro della sicilia perché da mezz'ora che manca adesso vediamo cosa dice ha iniziato a fare anche del fuoristrada e la cosa quella assurda è che mi sembra una 701 con gli steroidi cioè si guida con una 701 infatti non so perché oggi non avevo paura di andarmi infilare in mezzo a mulattiere o cose strane proprio perché io davo gas e lei non so che gomme abbia montato desert qualcosa ovviamente sono finite ecco adesso una cosa che devo controllare e capire se voi lo sapete scrivetelo qui nei commenti io vi chiedo un aiuto praticamente il buon Davide ha tolto il catalizzatore ha messo il filtro questo qua baubau rottweiler e ha lasciato ha messo la krapovic con il db killer adesso io non so se lo devo se la devo rimappare se devo fare qualcosa la centralina qualcuno mi dice di sì qualcuno mi dice di no quindi minchia boh mi raga ditemi cosa ne pensate se vi fa cagare non me lo dite questo era soltanto un primo contatto con questa moto vi ricordo che con questa moto fine maggio parteciperò alle lasserelli quindi come si fanno le corna così ovviamente ci devo prendere ancora un po la mano ma perché sapete che ho provato l'890 standard bene o male quella ma il fatto che ha queste sospensioni praticamente anche anche le pietre sembra di stare in autostrada non senti niente quindi devo capire un po non vedo l'ora di farvi vedere qualche nuova avventura in sella a questa moto non so come la chiamerò il momento ho chiamato unicorno ma è più bestia di satan di tutte quelle che ho posseduto mi raccomando iscriviti al canale per non perderti le mie prossime avventure mami disperso in mezzo alle campagne e che ore sono le quattro e mezzo dai un'altra mezz'oretta fatta bene ritorno poi ti strapazza di coccole sono le cinque e mezzo ok va bene sto tornando va bene un bacione ciao piccola